22 maggio 10 giugno e coloristi a confronto coloristi che ritraggono una forma d'arte non tanto nota dalle nostre parti ma certamente che stanno riscuotendo grande successo a livello internazionale si ripensa a questa nuova forma d'arte contemporanea e il panne il palazzo delle arti di napoli ci dà una mano perché li ripropone in scena a parlarcene luigi di vaia che è qui con noi accomodato buongiorno buongiorno rocco borella e yorit torkist sono due grandi artisti che hanno proposto questa forma d'arte che oggi abbiamo l'opportunità di conoscere si è rocco borella purtroppo è deceduto e c'è il in mostra dal 22 di di questo mese al pan alla sala del loft e insieme a torkist che è stato invitato con noi verrà direttamente un artista internazionale un artista austriaco poi anche nazionalizzato italiano e sono due grandi fondatori del colorismo il colorismo il movimento internazionale che basa la sua poetica fondamentale dell'arte sul colore quindi unicamente il colore borella già degli anni 60 già gli anni precedenti anche torkist hanno iniziato a sperimentare il colore usando i pesi le sperimentazioni le densità del colore stesso quindi noi troveremo anche la monocromia no vediamo esatto infatti vediamo delle delle immagini di rocco borella vediamo delle delle linee quindi delle forme il colore che prende forma il colore come espressione con il vetro esempio come si esprime il colore attraverso le varie stesure le varie monocromie le varie densità tra una un passaggio un altro insomma le varie sperimentazioni che negli anni 50 erano veramente innovato in grande innovazione intanto sicuramente colorismo ha contagiato poi successivamente molti altri artisti perché però decidere di mettere questi nel preciso due artisti a confronto quindi intanto perché gioretto orquist è un colorista del sentimento quindi è una grande sperimentazione grande scienziato ha scritto molti libri sul sul colore e sulla sulle frequenze del colore come il colore riesce a farci entrare farci evocare un'emozione far emergere un'emozione far sbocciare delle emozioni proprio anche a livello neuropsicologico mentre invece borella sperimenta la densità del colore sperimenta le varie masse di colore sulla tela se lei d'accordo possiamo perché abbiamo la disponibilità delle immagini commentare proprio singolarmente le immagini e definire un po le identità artistiche di questo esempio questo qui eccoli qua questo qui esempio sono del alcune immagini di torquist dove sembra racconti un po esatto sembra praticamente una tela dove tecnicamente è semplicemente una tela colorata e basta quindi però il fruitore quindi il il chi viene in mostra e vede queste 35 opere in a parete in realtà deve immergersi nel colore deve farsi assorbire dal colore in realtà deve entrare in una meditazione con il colore deve comunicare con la tela quindi il trucco dell'arte contemporanea è quella di lasciarsi alle spalle qualunque tipo di filtro di diaframma e di pregiudizio di pregiudizio culturale quindi non è come nell'arte antica dove c'è un volto c'è una figura c'è una storia un paesaggio oggi non c'è più c'è soltanto colore si toccano delle corde dell'inconscio abbiamo un'altra immagine in questo caso però sarà solamente sempre di torquist sì questa qua è ancora caratteristica di contrastare poi nell'immagine un colore diverso che prende diversi perché si devono accostare colori diversi perché lui deve far capire un colore reagisce con un altro colore ma non solo addirittura lui sperimenta una tela all'interno di un ambiente con una luce colorata se cambi la luce colorata e il cambi l'ambiente cambia il quadro cioè noi vediamo una cosa totalmente diversa è sicuramente un filone artistico molto affascinante questo che lei a questo oggi ci sta presentando io però le chiedo perché questo genere quindi il colorismo è poco conosciuto in italia è un vero peccato noi ne avremo l'opportunità ecco di apprezzarne il colorismo il colorismo in realtà è il fondamento la luce e il colore il fondamento di qualunque opera d'arte quindi in realtà qualunque tipo di artista parte dal colore dalla sperimentazione del colore quindi grazie proprio a questi artisti che hanno sperimentato il colore oggi qualunque tipo di artista qualunque tipo di ragazzo dell'accademia ovvio può studiare il colore in base a queste sperimentazioni a questi studi ovviamente essendo poco fruibili poco commerciali è soltanto un'arte di nicchia un'arte d'élite però è estremamente emotiva estremamente importante perché ha fatto la storia dell'arte contemporanea e fa la storia dell'arte in genere naturalmente riferimento al fatto che non ci siano tante mostre dedicate a questi coloristi però è naturale che il colore ovviamente faccia la storia dell'opera d'arte le chiederei così perché sarebbe anche divertente conoscere questa cosa quali dei colori no penso si pensa l'rgb in generale quali colori sollecitano la gioia quali la tristezza se esiste una sollecitazione di questo tipo il colore evoca e fa e risuona tutte le emozioni che abbiamo dentro sicuramente esistono i colori caldi che sono il rosso l'arancione il giallo che sono quelli che evocano tutte le nostre emozioni più pulsionali più primordiali più primordiali più calde intense esistono invece i colori freddi che sono l'indaco il blu che evocano invece emozioni di calma di serenità il verde forse il verde invece l'equilibrio al tavolo dal gioco il verde è l'equilibrio il verde mi dà anche un po' l'idea della libertà esatto il verde è la libertà e poi ovviamente in ogni cultura c'è sempre una differenza è un'interpretazione differente ma al di là dell'interpretazione culturale è stato visto è stato sperimentato che il colore evoca anche negli animali evoca addirittura un'emozione unica quindi è universale è una città ecco piena di emozioni e quindi è una città da colorismo e per questo l'abbiamo fatto a napoli perché se abbiamo scelto proprio la piazza di partenopea perché il colore è calore quindi in un certo senso è emozione quindi non potevano uscire napoli una mostra certamente da vedere sulla quale riflettere meditare tanto sì io lo farò certamente l'andrò a vedere perché mi affascina tantissimo luigi di vaia grazie ricordiamo l'appuntamento 22 maggio 10 giugno palazzo delle arti di napoli con due coloristi particolare rocco borrella e jorip torquist che hanno fatto veramente la storia di questa tendenza nata insomma comunque contemporanea anni 50 sì sì contemporanea infatti sono ancora ancora ci sarà un catalogo a cura di anche di lucio caprile un grande critico d'arte contemporanea e io e agostino cuccaro siamo i curatori di questa mostra bravissimi grazie ancora pubblicità bravissimi grazie a tutti bravissimi grazie a tutti